Svelato il cartellone degli appuntamenti sportivi che si svolgeranno durante la prossima primavera ad Agropoli, si tratta dei primi appuntamenti in programma nei mesi di marzo e aprile 2019. Lo start, con un anticipo di primavera, è previsto il prossimo 8 marzo fino al 10 marzo, con l'ottava Salerno Open, competizione nazionale di danza sportiva, presso il Pala di Concilio. Il 10 marzo si terrà presso la Piscina Elysium, il campionato regionale Endas di nuoto, Il 18 marzo in programma è il meeting internazionale di Orientaring, spazio poi al tennis. Dal 29 marzo al 7 aprile, presso il Tennis Village, ci sarà il torneo nazionale di tennis Terza Cat. Il 31 marzo torna l'Agropoli Alfa Marathon, giunta quest'anno alla ventesima edizione. Possono rallegrarsi anche gli appassionati di canoa. Dal 10 al 15 aprile, presso il porto di Agropoli, si terrà il campionato nazionale italiano di Serie A di Canoa Polo, maschile e femminile. Non poteva mancare l'appuntamento con il calcio giovanile. Dal 15 al 20 aprile, presso lo Stadio Guariglia e gli altri impianti sportivi del territorio, si svolgerà la 38esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Agropoli. Sulla pista Menea, il 27 e il 28 aprile, ci saranno le prove nazionali multiple Under 18 e Under 23 di atletica. Il 28 aprile, il tratto stradale tra lo Stadio Guariglia e il percorso Trentova-Tresino. Saranno il palcoscenico per la quarta edizione della Saraceni Monte Bike Race, competizione di mountain bike. Con molto piacere, afferma il sindaco di Agropoli Adamo Coppola, Sveliamo i primi eventi sportivi, che ravviveranno la nostra città durante la prossima primavera. Avremo, tranne in qualche caso, ancora da implementare un evento per ogni weekend. Sfruttiamo gli impianti sportivi, che hanno fatto della nostra la città dello sport, per disagionalizzare il turismo, concentrando gli appuntamenti sportivi prevalentemente nei weekend, per dare così impulso all'economia della nostra città.